Buon pomeriggio a tutti, sono Elena Mosca, New Business Consultant di IG. Benvenuti nella nostra IG Trading Room, il nostro appuntamento quotidiano di live trading, insieme a voi e i nostri migliori esperti di trading. Vedo già qui collegato il grande Arduino Schenato, Arduino buon pomeriggio. Ciao Elena, buon pomeriggio a tutti quanti e buon trading direi, buon trading simple. Esattamente. Guarda Arduino ti chiedo solamente di concedermi un minutino perché volevo appunto ricordare a tutti coloro che ancora non hanno richiesto un conto sui certificati, che è il nostro prodotto finanziario quotato, dove ricordo avete la possibilità di selezionare la leva più adatta alla vostra strategia operativa ed è un prodotto a rischio limitato perché oltre alla leva si va a scegliere in fase di apertura attraverso il livello di knockout, il rischio di perdita massima che siete disposti a sopportare. Attualmente se siete interessati a fare trading su questo prodotto e attivate un conto potete rientrare nella promozione Learn to earn che vi dà la possibilità di ricevere 100 euro di bonus proprio da utilizzare per fare trading su questo prodotto finanziario. Arduino ci sta mostrando appunto la videata, basta cliccare sul più e qui trovate direttamente eh tutte i termini e le condizioni per aderire a questa promozione. Bene, grazie mille Arduino. Io direi di... molto bene spero... scusami... vai 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 dimmi pure... vai vai pure Elena dimmi pure... io pensavo di iniziare con dare un'occhiata alla posizione che avevi hai fatto tu la scorsa settimana sulla serlina, cosa ne dici? Come si sta andando? Raccontaci un po'. Allora, allora, infatti ti dicevo voglio proprio partire da qui perché voglio mostrare eh delle dinamiche che accadono e che succedono no? Quando si fa trading e come sto gestendo la posizione visto che non è ancora stata chiusa e sono ancora a mercato. Quindi vado a prendere la mia posizione live, questo è un conto reale, sempre eh ce l'ho sul contratto mini, io sul contratto standard ho l'analisi, quindi ho tutte le mie linee, le mie cose, i miei studi, sul contratto mini vado a inserire, ho inserito il trade. Quindi vado sul contratto mini, eccolo qua. Questa è una posizione che attualmente è in leggera perdita, vedete? Meno 226 è la perdita. Allora vi spiego un po'. Noi eravamo entrati mercoledì, mercoledì probabilmente non era ancora entrata la posizione, quando noi ci siamo visti io avevo parlato che avevo un ordine pendente buy stop qui sopra. Cos'è successo? È successo che poi a fine giornata, adesso non ricordo bene, comunque durante la giornata dopo che ci siamo visti in trading room, il mercato ha eseguito il mio ordine, cioè il mercato, il broker IG ha eseguito, questo è il conto IG, ha eseguito il mio ordine, che avevo inserito ordine pendente, e il mercato è scoppiato a rialzo andando a farsi il movimento verso queste chiusure. Successivamente io avevo un piano ovviamente di trading, un piano che prevedeva uno stop classico, paracadute, come lo chiamo io. Io personalmente non utilizzo i classici stop che utilizzano tutti i trader, ma utilizzo uno stop che mi sono creato negli anni, dopo 18 anni che faccio trading ho deciso di fare, in realtà molto prima però, ho deciso di cambiare la visione degli stop classici che utilizzavo anch'io, in degli stop diversi che mi permettono di ragionare su quello che sta avvenendo sull'operazione prima di uscire completamente. Allora cosa succede? Succede che nel mio piano c'era l'area 1,26 che era un'area importante, poi ci sono le aree qua sotto 25,50, 25,30 e 1,25. Ho inserito il mio stop di circa 500 euro, quindi stop reale, soldi reali, di circa 500 euro a 24,86, quindi al di sotto, per appunto andare a valutare nel caso in cui il mercato fosse sceso sotto certi livelli, di valutare se fare un'uscita, se rimanere, eccetera. Quindi adesso io sto valutando e sto cercando di capire se uscire, come uscire, no, se fare determinate mosse, perché non sempre nel trading si può guadagnare, in tutte le posizioni si può guadagnare, l'importante è avere un metodo, conoscerlo bene, avere un piano e rispettarlo. Questo è importante. Quindi nel mio piano c'era anche la possibilità, in effetti, che il mercato potesse ritornare a 1,26, cosa che è successo e adesso stiamo a vedere. Questo 1,26 al momento è qui, ci sta battendo, in questo momento il mercato sta battendo 26,20, quindi al momento non c'è ancora qualcosa che mi sta indicando seriamente di fare un'uscita, di cambiare qualcosa, le carte in tavola, sto a mercato. Quello che è avvenuto tra lunedì e martedì, oggi e mercoledì, sono due candele inside di questa grande candela e di questa grande giornata di venerdì scorso, quindi al momento non ho una vera e propria, come dire, informazione operativa che mi sta indicando fai questo, fai quello, cambia. Quindi a questo punto, al momento, ovviamente, quando si fa un'operazione di trading, in generale, questo vale per tutti i trader, c'è un qualcosa che si chiama accettazione del rischio, che bisogna accettare seriamente e veramente, non che si entra così. Quindi io, quando ho inserito questo, ho accettato già il fatto che questa posizione possa anche andare a colpire il mio stop, invece di usare uno stop classico al di sotto del minimo che mi aveva fatto entrare, che non è uno stop che utilizzo io, io utilizzo degli stop diversi. Quindi al momento i 500, invece di averli presi qua, li sto gestendo, li sto seguendo. Potrebbe essere che questo minimo venga tenuto, potrebbe essere che questo minimo non venga tenuto, vada a rimbalzare qui, e magari da qui si rimbalza, potrebbe essere che il mercato scenda e vada direttamente qui. Quindi adesso io, siccome non ho la sfera di cristallo, come nessuno, devo gestirla in base alle informazioni. Le informazioni al momento sono inside, inside della giornata di venerdì, non ho false rotture, né al ribasso né al rialzo, ho una dinamica di consolidamento in area 1,26, poco sopra, poco sotto, insomma in quella zona lì, in realtà più poco sopra, perché dopo questa candela qui il mercato non ha mai chiuso al di sotto di 1,26, almeno al momento, poi vediamo stasera, non lo so, potrebbe essere. Quindi in questo caso vado ad attendere qualche conformazione. Volevo farvi vedere questo perché spesso mi trovo magari con la posizione in profitto, con ho chiuso questo e quell'altro, in realtà in questo momento sto gestendo una posizione non in profitto, che è una delle cose importanti che bisogna imparare a fare, se si vuole fare questo come mestiere, che possa far diventare un reddito costante, no? Perché? Perché ci sono i costi nell'attività di trading e mostrare come si gestisce un costo, penso valga quanto, forse anche di più, di quando si gestisce un profit. In realtà vale uguale se vogliamo. Quindi vi ho mostrato questa, poi magari settimana prossima vi dirò un po' come, magari sono ancora dentro, non lo so, oppure sarà uscito, ve lo dirò e così magari seguiamo insieme anche un'opposizione che non è detto che vada in profitto come altre che abbiamo visto qui in trading. Va bene? Grazie. Bene. Detto questo, vedo che c'è Fabrizio Fenoglio che chiede Buongiorno a tutti, buongiorno a te, vi seguirò in differita, ma se è possibile vorrei avere un'analisi di Arduino sul dollaro-yen e sul gold. Quindi su entrambe le situazioni. Allora, io andrai a prendere innanzitutto il dollaro-yen, che è la prima, eccola qua. Il dollaro-yen è una situazione un po' particolare perché è in una fase molto bullish, quindi vedete che il mercato ha creato questo massimo importante, che è diventato un doppio massimo, se guardiamo l'analisi tecnica tradizionale, questo no, adesso è la terza volta che batte su quest'area di massimo. In questo caso io direi che per quanto riguarda il dollaro-yen sarebbe più opportuno lavorare long esclusivamente alla rottura del 152 consolidata. Che cosa significa consolidata? Significa che il mercato del dollaro-yen deve andare al di sopra di questo 152 e rimanerci prima e attendere un segnale long, prima di cercare un movimento di allungo. Oppure comunque lo short adesso è un po' prematuro, perché comunque è vero che siamo su dei livelli importanti, però prima di shortare un mercato così forte, io direi che bisogna avere qualche informazione in più. Per esempio mi viene da dire, tiene veramente questo livello? Ha fatto la falsa rottura? Domani crolla, il dollaro perde valore? Bene, aspettiamo poi magari un recupero e magari lo vendiamo in un classico 1, 2, 3 di movimento di massimo decrescente e andiamo a vendere, è vero più basso, ma andiamo a vendere una situazione più consolidata da un punto di vista di tendenza. Io questo è quello che faccio, difficilmente vendo i massimi e compro i minimi, molto raramente è successo, capita, non ho una metodologia che è univoca e senza nessuna elasticità per carità, però insomma diciamo che in linea generale situazioni di questo tipo su massimi importanti, quasi storici se vogliamo, perché non si andava su questi livelli dal 1990, quindi possiamo dire insomma 30 anni, io sono un 1980 e ho 43 anni, quindi vuol dire che era da 33 anni che questo dollaro non andava su questi livelli, stiamo parlando di una vita fa, quindi tanta roba, ecco quindi in questo caso direi secondo me l'attenzione massima sono questi 152 sacri al momento, se rilompe il rialzo consolidando il prezzo lì sopra, ma lo vedremo anche nelle prossime 3 di run che faremo insieme questa cosa, non c'è problema, tanto c'è tempo, allora si potrà pensare al long e a quel punto vi dico che il long può diventare bello, perché a quel punto se rompe consolidando i prossimi livelli chiave sono a 158 ragazzi, quindi poi ce n'è, però adesso bisogna stare attenti, adesso bisogna stare un po' all'occhio perché vedete questo 152 anche oggi, guardate, ha tentato il rialzo, al momento l'ha rifiutato, quindi è molto importante seguire. Tra l'altro dollaro-yen è un cambio, è un asset che paga interessi attivi se si sta long, interessi passivi se si sta short, perché il differenziale tasso tra America alto tasso e yen, tasso al minimo, addirittura era negativo fino a poco tempo fa, adesso forse è ritornato un po' positivo, ma pochissimo, stiamo parlando di tassi a zero, il differenziale è a favore dei dollaro, quindi yen purtroppo a comprarlo al momento si paga, soprattutto sul dollaro, quindi bisogna essere molto molto attenti e capire bene cosa si vuole fare su questo mercato, prima di fare mosse che possono essere insomma delle perdite non solo di tempo ma anche di soldi. Per quanto riguarda invece il gold, direi che sul gold la situazione è ancora assolutamente bullish, io qui sì, è vero, c'è un weekly che ha un inside fake out, quindi una barra che può portare giù, ma in realtà poi non è neanche mai stata convalidata, quello che però io vi voglio dire è che c'è un trend in atto molto serio, molto forte, persistente, che tiene i prezzi con dei minimi e dei massimi crescenti molto chiaramente, senza alcun dubbio, quindi io sarei più per un'ottica long, è vero anche che l'ottica long adesso non c'è un trigger che ci permetta di fare qualcosa, infatti siamo inside di questa candela, di questa giornata, il 20 di marzo, da ormai il 27 oggi, da 5-6 giorni, 1, 2, 3, 4, 5 giorni di mercato aperto e quindi queste tipologie di dinamiche inside, cioè tra l'altro con tanta volatilità possono portare sia movimenti verso il massimo, movimenti verso il minimo ma senza veramente chiare situazioni. Allora io, se vi devo dire, sono più per il long, cercherei delle impostazioni più long, cercherei degli acquisti dove li cercherei, non li cercherei su breakout dei massimi, perché non è la mia operatività, ma cercherei di più se dovesse creare magari dei movimenti verso il basso ripresi in una, due, massimo tre giorni, si potrebbe pensare di andare a cercare degli allunghi e a quel punto lavorare con degli stop loss al di sotto di 2100 e provare il movimento. Questa è un po' la situazione. Adesso, da un punto di vista di price action, non ci sono i presupposti, tra l'altro, provate a pensare, a parte che non c'è un trigger, ma se anche ci fosse, se devo comprare qui, dov'è che imposto lo stop? È un po' difficile anche, non abbiamo dei riferimenti. Se abbiamo una falsa rottura dei minimi, c'è un riferimento che è questo, si può stare un po' lontani da quel riferimento e provare a muoversi verso l'altro. Questo è quello che penso sul gold. Tra l'altro, gold e dollaro yen, e qui concludo, sono due mercati che potremmo definire simili tra di loro al contrario, seppur nell'ultimo periodo l'oro è salito e il dollaro yen è salito, anche se tendenzialmente hanno una correlazione più negativa. Vuol dire che per un asset che sale l'altro scende, solitamente. Però vedete, le correlazioni a volte su mercati, chiamiamoli così, diversi, cioè intermarket, non sulla stessa asset class, quindi correlazioni inframarket è all'interno dello stesso mercato, per esempio il mercato delle valute. Correlazioni intermarket, vuol dire correlazioni tra indici, oro, forex, queste cose qua. Questa correlazione intermarket a volte si disallinea, decorrela, e in questo momento si è un po' decorrelata. È anche vero che il dollaro yen è arrivato su dei massimi importanti, quindi il fatto che ci possa essere una resa da parte del dollaro nei confronti dello yen e una continuazione dell'oro è plausibile la cosa. Tommaso, che saluto, tra l'altro lui è un platinato, quindi ci conosce, dice L'Asterina sta andando a target 1,2530, sono entrato dopo essere uscito a B e long sulla pin di mercoledì, ho preso stop sull'incremento long fatto dopo la rottura dei massimi il giorno seguente, e sono entrato short sul doppio massimo lower contagio 1,2530. Bene, Tommaso ha un'operazione diversa dalla mia, quindi io sono ancora long da una dinamica strutturale studiata nel medio termine, qui sul weekly e su tutte quelle che sono le dinamiche, lui probabilmente ha preso un'operatività più di brevissimo termine e va a cercare i 25, quindi ci può stare, il movimento ci sta, insomma, io ho un'operazione completamente all'opposto, quindi... Però sì, diciamo che la dinamica adesso potrebbe riportare giù, io qui non sarei mai entrato short, per la mia metodologia questo non è un trading da fare short, ma sarebbe da cercare delle conferme più sane per lo short, che vorrebbe dire, per esempio, uscire per la conferma di questo doppio massimo lower, che deve essere contestualizzato sul weekly, lo ricordo sempre, dobbiamo uscire dal massimo dell'outside bar e rientrare, per esempio, questo potrebbe essere una conferma, allora a quel punto io uscirei dal mio trade long, se dovesse avvenire una cosa del genere, o comunque valuterei degli spostamenti degli stop loss, per esempio qua sotto, non so, cose di questo tipo. Comunque, bene, interessante Bitcoin, poi diceva... Un attimo, scusami, scusami, scusami. Vediamo un po' che... Parlando di massimi tecnici arrotondati non si vede niente, è giusto. Vediamo un po' che non guardo il Bitcoin, vediamo un po' cosa dice il Bitcoin. Bitcoin... No, questa adesso si sta formando un FTV Power, qui, ovviamente stiamo a mercoledì, quindi mercoledì è ancora lunga la fine della settimana, ma se dovesse concludere la settimana in questo modo, beh, il cielo è il limite per il Bitcoin, ci potrebbe essere la rotura dei massimi, un ulteriore movimento rialzista, quindi Bitcoin ancora è totalmente in bullish run e sinceramente non andrei contro quello che fa il Bitcoin in questo momento, quindi i massimi, non massimi, quello che è, non si vendono. Si cerca una continuazione di trend, tra l'altro, ripeto, questa potrebbe diventare un FTV Power, quindi staremo a vedere. Quindi tu sul Bitcoin attualmente te la sentiresti o meno ad inserire un ordine pendente? No, non me la sentirei. Ok, ok. Non me la sentirei, te lo spiego perché, Elena, perché io ho bisogno adesso di una conclusione di questo. Allora, ti dico una cosa, se i prezzi della settimana attuale, adesso siamo a mercoledì, dovessero chiudere, quindi venerdì sera, per me è la chiusura, anche se il Bitcoin non chiude mai, per me la chiusura della settimana è quella lì. Quindi se dovesse chiudere più o meno così, allora questo ti direi in maniera molto molto seria che la rottura dei massimi di questa settimana darebbe trigger rialzista. Ma siccome io non so se questa settimana mi chiude così, se mi chiude sui minimi, quindi torna giù, questo non è la stessa cosa, questo può veramente ritracciare. Oggi come oggi, io guardo il prezzo attuale in questo momento, perché io sono un trader, quindi non faccio previsioni, ma seguo il mio metodo, che è diverso, il mio metodo mi dice, qui non puoi entrare, aspettiamo la close di settimana, se chiude così potrei pensare a un trade magari a settimana. Ecco perché, spiegato. Perfetto, grazie mille. Passiamo alla domanda di Mario, UK100. Allora, Mario dice, ciao Ardu, ciao a tutti, anzi, ciao a tutti, ciao Ardu, ciao Mario. Allora, aggiornamento UK100, bravissimo, perché Mario, che è un grande esperto di nazioni, lui ha fatto l'FTV e mi dice sempre delle belle, dà sempre dei belli spunti e mi piace molto cosa esce da Mario, dice UK100, allora andiamo a vedere l'altra volta, avevamo parlato di Fuzzicento che è salito su quella FTV, se non mi ricordo male, guardate un po' che bella salita, l'aveva chiamata Mario, se non mi ricordo male, questa FTV Weekly, questa che poi era stata costruita, eravamo un po' ancora su un'area di range, però era costruita bene perché avevamo il minimo, il massimo, il minimo, falsato, nuovamente il minimo, tenuto con una tail bar e poi l'FTV, quindi lui era entrato probabilmente su questo livello e, almeno così diceva insomma l'altra volta, e dice take profit raggiunto a 7900 punti, infatti eccolo qua, l'avevo segnato in rosso, tac, 7900, quindi sì, tra l'altro guardando il Fuzzicento direi che l'impostazione anche sul Fuzzicento finalmente, dico finalmente perché tutti gli altri indici sono su massimi storici o comunque anche l'indice italiano è su massimi che non si vedevano da un po', il Fuzzicento quindi diciamo il rappresentante delle azioni inglesi non si muoveva più di tanto, guardate un po' era rimasto, sì, vicino a dei massimi ma non aveva rotto al rialzo diciamo, no? Quindi questa cosa è interessante da valutare, da seguire, bene, buono il target, poi tu c'hai, dicevi Campari, sì, anche Campari l'avevi, forse l'avevi citata qui o nella mia trading room del lunedì, adesso non mi ricordo però ne avevamo vista insieme, Campari avevamo visto lo short, vero? In run verso 9, sì, bravo, bravo, Mario ormai nelle azioni, non voglio dire non sbaglia un colpo, però insomma è molto bravo a capire quelle che hanno più, come dire, l'impostazione per un nuovo movimento, è bella perché mi ricordo avevamo parlato di questa tail bar bellissima, doppio massimo lower, che adesso stanno verso 9, dove probabilmente il buon Mario ha il suo target. E poi dici, Hologic, anche questa l'avevamo vista insieme, però questa ti avevo detto che io non sono molto, questa è una azione americana e quindi le azioni americane le seguo meno, che aveva avere un'impostazione sempre FTV, sei lì che ricerchi proprio, che dici che oggi è partito, giusto, giusto, abbiamo una bella base qui in area 73, quindi sta partendo, però ci stai chiedendo qualcosa invece più fresco, qualcosa che possiamo vedere adesso, che è Danieli, titolo italiano, che tra l'altro io ho anche tradato nel passato già altre volte. E Danieli, eccolo qua, sul weekly dice che ne pensi? Grazie. Allora, era un po' che non guardavo questo titolo, seriamente, ho dei livelli segnati ormai da tempo, però vedo che sono stati tenuti bene, segnerei ancora questo e ancora questo e probabilmente è anche questo. E quindi vedo una bella impostazione, massimi storici, credo, comunque massimi che non si vedono da svariati anni, almeno 10 per il titolo Danieli. Al momento c'è un consolidamento in sidebar, quindi vuol dire che c'è una compressione di volatilità. La compressione di volatilità può portare o a un movimento schizzato verso l'alto o verso il basso, per come si è impostato qui vicino ai massimi. Dopo questo swing e avendo già dato una barra di volatilità, io preferisco non andare mai a comprare qui, perché è rischioso comprare l'alto lì, il breakout rialzista. Possono venire false rotture. Quando avvengono cose di questo tipo, quindi primo trigger è questo, consolida un po' e spara su e poi fa questo, non me ne frega del breakout rialzista. Faccio fatica ad andare là, perché so che il più delle volte potrebbe essere sfalsato. Mi piace di più se lui magari va, ritorna un po' qui, anche solo una settimana, rientra, bam bam, eccolo qui. Questo sì che è un bel, cioè va a far la finta di rompere le inside, magari le rompe un po' e poi riparte. Allora questo si può comprare e ricercare il movimento nuovamente verso l'alto. Il trend, non lo neghiamo, è bellissimo, è uno di quei trend che si può chiamare, si può definire trend persistente. Quando se noi guardate, uniamo più delle candele, guardate, le uniamo tutte nei prezzi, guardate come prendiamo un sacco di candele. Ce ne sono poche che restano fuori, guardate qua, restano fuori questa, questa che non toccano la linea. Poi il resto tocca tutto, quindi è persistente il movimento, resta sempre su e rimane sempre forte, quindi senza avere troppi strappi, solo qui ce l'ha avuto all'inizio del movimento. Poi dopo è rimasto lineare, persistente, da area 25 a area 34. Stiamo parlando di tanta roba, quindi è un bel trend persistente che va seguito su dei pullback e i pullback in questo caso, secondo me, non va adesso a rottura qui, siamo troppo su. Se rompe, lasciamolo andare, potrebbe succedere che lui rompa una candela e poi la rientra la seconda e fa quello che vi dicevo. Allora è meglio fare, attendere che lui dia, no? La, la giusto, il giusto entry. Questo un po'. Bravo Mario comunque, ottimo, mi piace. Passiamo a Luca, analisi su euro yen. Allora, euro yen, abbiamo visto dollaro yen, quindi comunque lo yen un pochino l'abbiamo capito che è un mercato un po' particolare in questi ultimi tempi. Euro yen lo vediamo subito, eccolo qua, perché dico euro yen? Perché euro yen è importante, perché, cioè importante, avendo visto dollaro yen, è importante euro yen, nel senso che se io conosco il movimento di dollaro yen, posso essere più, e anche di euro dollaro, posso essere più preciso e anche un po' più consapevole di quello che può avvenire su euro yen. Perché? Perché euro yen è un cambio, un cross, un incrocio, che vede proprio i due cambi che vi ho appena citato, euro dollaro e euro yen, come i main market, i mercati principali che formano il cross. Quindi, per esempio, se io ho un dollaro yen, facciamo un esempio, che continua a salire, e l'euro dollaro inizia a scendere, e più o meno questo fa meno 0,20, 0,20, e questo fa più 0,20, tendenzialmente il dollaro yen fa 0, ok? Cioè, il movimento è 0. Quindi noi dovremmo avere, per vedere un movimento, o è il dollaro yen, UJ, che da quei livelli scende, perché abbiamo visto che 150 euro sono importanti, euro dollaro è debole, tende un po' a scendicchiare, allora l'euro yen scende il doppio. Cosa diversa è, dollaro yen sale, rompe i massimi, l'euro dollaro magari non è che sale di brutto, però tiene, ecco che l'euro yen continua. Quindi tutti quelli che sono i cross senza il dollaro, mi raccomando, vanno studiati anche, soprattutto, in, come dire, alla fonte, su chi li forma e cosa sta facendo quel tipo di mercato. Ecco che per andare su euro yen, dobbiamo per forza conoscere benissimo come si sta muovendo euro dollaro e dollaro yen. Insomma, io conosco benissimo euro dollaro e dollaro yen perché li trado giornalmente, perché li conosco da sempre, sono i miei mercati principali. Io vi dico che su euro yen è un po' difficile adesso quantificare o capire un movimento. Perché? Perché dollaro yen non sappiamo cosa voglia fare lì. E l'euro dollaro è sopra 1,08, che potrebbe rimbalzare, però è un po' debole nelle ultime giornate e potrebbe anche romperlo quel livello. Inoltre non abbiamo una vera e propria price action, se vogliamo, sull'euro yen, se non il fatto che siamo anche qui, questo è un weekly, è un settimanale, non siamo su cinque minuti, siamo su massimi importanti, eccoli qua, che al momento sono stati breccati ma non sono stati breccati e hanno tenuto in chiusura determinati livelli. Cioè non c'è stata una chiusura al di sopra, ma c'è stata una rottura rientrata con una tail bar, una barra con una coda, no? Con una spike. A questo punto, in base a quello che saranno i movimenti di dollaro yen e di euro dollaro, potremmo verificare magari un ritracciamento prima, magari una rottura poi, ma magari perché il dollaro yen magari lui scende un po' e magari l'euro dollaro rimbalza da 1,08 fortemente e porta sull'euro yen. Cioè può succedere veramente qualsiasi cosa. Finché non c'è una bella price action qui, penso per esempio a quando si era creata questa pin bar sull'euro yen, allora qui guardate sopra questi livelli di supporto, la rottura dei massimi, magari attendendo il daily che ci potesse dare qualche conferma, si poteva fare, guardate, un trade immenso. Ma adesso qui, in mezzo a questo livello, sinceramente anche qui non ci sono dei presupposti, da un punto di vista di price action, che ci permettano di fare una cosa fatta come si deve. Ok? Sempre Luca chiede anche la serlina contro yen. Volevo capire quale potrebbe, quale valuta potrebbe essere più debole per lo short, ma perché devi shortare, domanda? Capito? Cioè perché devi shortare sta roba che sale? Cioè euro yen sale, euro yen sale, sterlina yen sale, perché vuoi shortare? Allora c'è un qualcosa che è un po' insito, no? Un po' nella, noi esseri umani, che quando, perché siamo abituati nell'economia reale, diciamo, quella dello scambio di prodotti reali, è che se un prezzo di un asset tende a scendere molto, noi cerchiamo di comprarlo, perché se prima qua valeva 10 e adesso qui vale 5, lo posso comprare a 5 e quindi è più facile che io lo possa rivendere a 6, no? E quindi guadagnarci un euro. E al contrario, sempre in una situazione al rialzo, uguale, no? Questo qui sale, 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 lo posso vendere a 10 invece che venderlo a 5. In realtà poi nel trading può anche andare bene, perché più si va verso il basso e più può arrivare domanda, e più si va verso l'alto e più può arrivare offerta, no? È normale questo. Però ricordiamoci che il mercato, i mercati azionari, i mercati valutari, questi mercati qua, rispondono a, come dire, un po' alla legge del, se il trend continua, perché deve fermarsi perché io vendo, no? O perché io compro? Il pensare di comprare il minimo, vendere il massimo e poi magari farlo, è il più delle volte, è poco funzionale. Perché se io sono in una tendenza così, che magari a volte fa anche questo, ma poi continua a salire, continua a salire, continua a salire, continua a salire, io qualche volta posso prendere qui e magari prendermi sto movimento, ma più delle volte prendo questo, boom dietro, questo, boom dietro, poi magari prendo questo, non esco, e ancora, questo e poi ancora, e la volta che magari fa questo ed è il massimo vero, io siccome ho perso talmente tante volte qua, arrivo qui che potrei fare un trade da paura, che appena prendo quel minimo che mi paga un po' quello che avevo speso nelle altre operazioni, esco, perché ho paura, ed è tutta emotività il trading, ragazzi, voi capite che è tutta gestione emotiva, è molto gestione emotiva al trading, molto, ma molto. Allora, la cosa che io dico a te Luca, dico perché vendere qua, perché pensare qual è la più debole? Sì, potrebbe essere, cioè adesso guardate euro e dollaro, euro e dollaro, sono molto simili, se voi prendete euro, dollaro e sterlina dollaro, sono molto simili, forse in questo momento, adesso, oggi, sta scendendo un po' di più l'euro, ma non è questo il modo, no? Se noi vogliamo fare trading e non scommettere sui mercati, vogliamo fare trading seriamente per, no? Guadagnare un po' alla volta, fare qualcosa di fatto bene, io, mercati così, in salita, come facciamo? Questa è la sterlina yen, no? Luca, questo è euro yen e tu mi dici qual è meglio da shortare? Eh, nessuno dei due, sono tutti e due dei mercati che stanno salendo e che sinceramente non shortare nessuno dei due, cioè è una scommessa shortare qui, c'è un mercato che è in salita, se poi scende va bene, però non stiamo parlando di trading, stiamo parlando di provare lo short, allora il provare va bene, ci può fare, però io non insegno questo e non faccio questo, quindi io cerco di trasmettere una modalità più, no? Più professional, quindi adesso un mercato del genere, quando sta salendo, l'unica cosa è attendere che lui ci dica cosa vuole fare, vuole veramente scendere? Aspettiamo che possa creare un movimento di discesa, concludo, per esempio, scende, mi fa uno swing, mi crea un trigger, allora vendo a 156, non vendo a 163, però magari vendo quando lui veramente poi scende, perché ha già creato una struttura ribassista, hai capito Luca? Bene, ovviamente quando io rispondo a Luca, rispondo a tutti e spiego un po' qual è la mia operatività ovviamente, quindi Luca mi ha dato un assist e io ho cercato di spiegare, no? Grazie per l'assist Luca. Poi abbiamo Paolo De Luca invece che dice, ciao Arduino, vorrei un tuo parere su Eurofranco, sono long da 0,9750, punto verso area 0,9850, ci possiamo arrivare, grazie. Allora io do già che per assodato che voi sappiate che io la sfera di cristallo non ce l'ho, quindi qui sono ovviamente delle view in base alla mia metodologia. Eurofranco non è un mercato che io tendo a seguire, vediamo se ho qualcosa disegnato su Eurofranco mini, forse qualcosa avevo, vediamo, sì? Avevo disegnato qualche area importante nel recente passato, questo è il weekly, lui dice che è long da 0,9750, quindi sei long proprio da qua sopra. Io adesso non voglio fare il bacchettone, però dipende sempre da come si lavora, ok? Può essere tutto giusto, tutto sbagliato, cioè nel trading non c'è il giusto e sbagliato, ricordatevelo. Nel trading c'è, faccio un qualcosa in base al mio metodo, al mio piano, quindi un trade per esempio molto intraday, molto di breve termine, comprato dove l'hai comprato tu, con l'obiettivo che hai tu di 100 punti, ci sta tutto, ha senso, ci può stare, il mercato è molto in forza. Per il mio metodo, un mercato che è alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottava settimana bianca in rialzo, non lo comprerei neanche con la pistola puntata alla tempia e non lo venderei neppure, non che vado in vendita, cioè non è che faccio diverso, è un mercato che è in piena vola rialzista, quindi per comprare un mercato del genere, ma ovviamente Paolo ti sto dicendo come io guardo questo mercato in base alla mia metodologia, ok? Quindi non che il tuo sia sbagliato, in base al mio piano e alla mia metodologia, io cosa faccio? Aspetto che il mercato freni e poi mi ridica allora cosa vuole fare? Esempio, adesso lui ritraccia 2-3 settimane, alla terza settimana mi fa una tenuta di questi 0,97, ecco che io entro, ma magari non entro per 100 pips, entro magari da 97, mi vado a prendere 99, addirittura l'area parità, l'area 1, capito? Questo è il mio metodo, quindi io ti sto rispondendo in base a quello che vedo. Un mercato che è lontano dall'ultimo swing da tempo, dalla prima settimana di febbraio, in volatilità verticale, per me non è un mercato che adesso posso comprare, capito? Però non è sbagliato, bisognerebbe capire, Paolo, che tipo di trade tu hai fatto, con che tecniche, con che metodo, quindi per quanto mi riguarda non sarebbe buono andare long adesso. Lallo Pippo, bene, Bayer AG, come la vedi Arduino potrebbe iniziare un rialzo, allora intanto è bello perché abbiamo visto indici, materie prime, valute e azioni, abbiamo visto tutto, quindi proprio non c'è problema. Bayer AG, che è questa, titolo tedesco assolutamente conosciuto da un po' tutti, farmaceutico, qui dice potrebbe iniziare un rialzo, non vedo i presupposti, vediamo un po', adesso io qui vedo questo livello enorme, livello storico, questo livello che passa per qui, livello 33 e mezzo più o meno, guardate un po' come ha fatto qui delle belle, dei belli, belli, dei belli up, dei belli movimenti, movimenti bullish molto forti, qua guardate addirittura ha tenuto nel momento in cui aveva rimbalzato, quindi diventa interessante. Allora, per quanto riguarda la tua idea, potrebbe iniziare un long? Allora, questo è un mercato in vendita, questo è un mercato che sta scendendo, che sta vedendo una tendenza short da molto tempo, da molte settimane, l'ultimo movimento rialzista che poi era stato tranquillamente tranciato verso il basso è stata questa qui, 6 febbraio, e il mercato è sceso completamente con veramente, tra l'altro 6 febbraio 23, non 6 febbraio 22, sto parlando di un anno fa, il mercato è da un anno e più che è in un trend ribassista. Io quando ho questo tipo di strutture cerco solamente dei ribassi, quindi le azioni con i CFD come con i Turbo si possono tranquillamente vendere, la classica vendita l'ho scoperto come si dice, ma in realtà con questo tipo di strumenti è uguale a come comprare e vendere, non cambia nulla, c'è un margine per quanto riguarda il CFD e si fa la nostra operazione con il nostro stop loss, si può anche muovere lo stop, non ci sono problemi. Con il certificati Turbo ovviamente abbiamo la nostra area knockout, quello che investiamo è quello che rischiamo e quindi non c'è neanche il margine, abbiamo questi strumenti. Quindi diciamo che per un trader le azioni non per forza sono solo da comprare, per un trader come me, io quando vedo un grafico del genere non penso a comprare ma penso a vendere, penso a seguire la tendenza di fondo. Quindi per quanto mi riguarda, qui Bayer è molto interessante la tendenza in atto, si potrebbe valutare qualche short secondo me in area 30 o se sale di più in area 33,5-35 e allora diventa un'area bella a shortare e si continua nella fase ribassista. Questo è un po' quello, non vedo in questo momento possibilità di un rialzo per quello che è la tua domanda. Non vedo questo. Ritorno un attimino all'idea che ci hai dato dello short area 30, 33,5-35, metteresti lo stop più o meno a che punto? Allora in base a quella che è la possibilità che si viene a creare, se si viene a creare un buon trigger in area 30, io lo stop o il knockout nel caso dei certificati, vogliamo vedere se c'è Bayer sui certificati? Controlliamo subito. Penso di sì. Penso di sì, sai, perché è un titolo, è un titolo bello, adesso vado anch'io a prenderlo, eccola qua, questa qui è la piattaforma dei Turbo, 24 dei certificati. Allora azioni, 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 beh cerchiamo, come facciamo prima, no, no è OG, no Bayer AG. Bayer AG sì, l'ho trovato io. Bene, eccolo qua, Bayer AG, lo aggiungiamo qui, facciamo così, molto bello questo qua, guardate qua. Andiamo a vedere gli short? Guardate un po', ci sono, ci sono tutti gli short. io qua andrei in alto sai allora userei dei turbo userei dei turbo e andrei a prendere l'ultimo livello turbo nel momento di knockout i 42,70,97 questi e andrei a inserire nel caso si potrebbe andare anche a inserire un ordine limite anche se io aspetterei comunque un trigger qui in area 30 in area 30 e 10 si potrebbe andare a mettere un limit order a 30 e 10 quindi questa zona qui knockout qui perché se qui poi rientra abbiamo un ottimo eseguito se sale un po' di più e va qui non andiamo a buttarci fuori subito ovviamente perché rischiamo di metterci subito sopra qua se abbiamo un massimo importante qui il mercato potrebbe andarselo a cercare magari lo sporca un po' e poi rientra vista la fase di trend l'ha già fatto altre volte se guardate nel passato quindi io direi 30 e 10 potrebbe essere una buona zona di vendita knockout 42,70,97 quindi 42,71 e poi vabbè poi il target qua bisognerebbe gestirlo perché stiamo su minimi storici quindi farei una cosa di questo tipo interessante comunque questo lo farei con i certificati anche con i certificati abbiamo lo stop chiamiamolo così che è il knockout che è garantito quindi abbiamo costi commissionali anche più bassini quindi guardate vi faccio anche vedere un po' come potrebbe essere l'ordine livello ordine al limite se noi mettiamo 30 punti apri turbo calculator ovviamente mettiamo 30.10 vedete se io mi vado a mettere livello del sottostante 30 e 10 corrisponderebbe a un prezzo del turbo stimato 12.98 cosa vuol dire che io pago ogni certificato short che compro 12.98 quindi se io ne compro 10 avrò 129.80 di investimento se ne compro 1000 12.98 e via dicendo quindi copio sull'ordine tac livello ordine al limite 12.98 gli dico di comprarne abbiamo detto facciamo esempio non 100 ma una quarantina per avere circa 500 euro eccolo qua circa 500 euro di investimento come faccio solitamente io almeno in prima battuta eccolo qua 500 euro 509 euro 40 certificati prezzo del certificato 12.98 sottostante 30.10 io comprerò 40 certificati short al prezzo di 12.98 turbo equivalente ai 30.10 del sottostante ok quindi praticamente questa zona il mio knockout è bello lontano quindi stiamo tranquilli vediamo un po' come reagisce qua e poi se continua al rialzo al massimo valuteremo l'uscita potrebbe fare questo magari fa questo riparte a quel punto usciamo con una perdita minore non 500 ci permette di far questo comunque il certificato se invece la cosa interessante è vendo qui questo mi va qui e poi inizia a scendere io ho un ottimo eseguito posso poi iniziare a inserire degli stop anche classici andarlo a seguire posso andare a fare quello che voglio guardate la cosa bella tra l'altro è che abbiamo 2 euro di commissioni cioè sarebbe lo spread e niente stiamo parlando che adesso prendendo il CFD avremo comunque una decina di euro no andata a ritorno forse 12 11 12 euro poi dipende un po' 5 euro a entrare 5 euro a uscire più o meno perché è un'azione europea euronext credo questa o comunque tedesca no euronext è tedesca quindi più resumo che più o meno Elena i costi sono quelli per l'ambiente europeo tedesco quindi qui addirittura riusciamo ad avere con i certificati turbo abbiamo una diminuzione delle commissioni molto importante invece di non so 10-12 euro ne spendiamo intanto 2 o comunque 2 euro magari andare 2 euro tornare 4 facciamo quindi comunque spendiamo un terzo e poi abbiamo il valore che andiamo a rischiare che è garantito quindi facciamo un esempio noi vendiamo qui e questo per un qualsiasi motivo durante l'after hour durante un momento di mercato chiuso sabato domenica borsa chiusa succede una qualsiasi cosa che fa aprire il mercato qui perché le azioni sapete come sono tutto può succedere io comunque ho avrò incassato la mia perdita ma io ho il mio knockout e il mio knockout mi costa 519 euro e 20 che ho già pagato e che quindi io vado tranquillamente a quindi molto bene questa cosa molto bella perché abbiamo la possibilità tra l'altro con una piattaforma che è quella di CFD di fare il certificato di turbo sulle azioni secondo me sono il top con costi migliori con stop garantito e con knockout veramente molto versatili perché avete visto in questo caso ho preso quello più lontano perché non volevo stare troppo vicino però potevamo prendere anche quelli più vicini è ovvio che si rischia molto di più perché se io ho uno stop molto maggiore è vero che di leva aumento la leva ma come sappiamo la leva alta basso knockout è molto più facile che io venga preso quindi io preferisco sempre leve più basse addirittura anche minime proprio però avere knockout più ampi che mi permettono di ragionare su quello che accade ma questo è sempre non giusto sbagliato è sempre la mia visione che non è per forza la vostra però siamo qua e vi spiego un po' come opero io quindi ritornando poi sul discorso dei certificati ritornando un po' all'inizio per chi non ha un conto con noi e volesse tradare il certificato ricordo la promozione Learn to Earn così hai la possibilità anche di ricevere questo bonus di 100 euro che vi consente proprio di aprire delle posizioni sui sottostanti che appunto oggi ha visto in primis Arduino quindi spara a fare trading e ricevi 100 euro yes bene molto bene benissimo Arduino qualcos'altro da aggiungere non mi sembra mi sembra che abbiamo veramente guardato un sacco di cose abbiamo visto ripeto azioni forex indici oro quindi abbiamo visto veramente quasi tutte le asset classe ci mancano le obbligazioni se volete un giorno guardiamo un problema i tasse di interesse però insomma tra i mercati principali mi sembra che abbiamo visto bene un po' tutto quindi insomma credo che abbiamo anche abbastanza spiegato un po' qual è la nostra modalità operativa come facciamo sempre perché poi queste trading room è vero che sono operative ma sono operative a fine didattici quindi spero che arrivi anche quell'approccio lì che è molto importante assolutamente vedo tantissime persone collegate quindi vi chiedo cortesemente di mettere un bel like e poi ci vediamo direttamente mercoledì prossimo io auguro a tutti buona Pasqua buona Pasquetta speriamo che cambi il tempo almeno in quei di Milano e Arduino che dire grazie mille ci vediamo mercoledì assolutamente sì noi ci vediamo mercoledì io vi ringrazio per essere stati con noi vi ringrazio per essere sempre tantissimi e sempre di più qui nelle trading room grazie buona Pasqua buon trading simple alla prossima ciao 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 grazie ciao